ciao allora oggi vi voglio parlare di una linea di shampoo che io non avevo mai provato ma che mi hanno tanti campioncini devo ringraziare mia mamma per tutti questi campioncini ognuno è un 75 ml quindi davvero l'ho provato per tanto tempo è di due tipi questo è liscio e setosi per capelli secchi danneggiati o crespi e l'altro eccolo è il classic per tutti i tipi di capelli è una linea che ne ho sentito tante pubblicizzare l'ho vista da poco in negozio e l'ho provata grazie mamma e cosa vi devo dire trovo che sia una linea intanto valida per quanto riguarda la cura dei capelli e non gli appesantisce trovo trovo ho trovato che quello in teoria liscio e setosi ha una profumazione fantastica sembra un po' herbal essence come profumazioni così setose avvolgenti però visto che tende a far sporcare i capelli un pochino più velocemente mentre quello classico che ha una profumazione sicuramente più classica e lascia i capelli morbidi e puliti morbidi e non appesantiti quindi davvero due formulazioni se scegliere un prodotto da acquistare sicuramente acquisterei quello classico per un uso più quotidiano l'altra linea è liscio e setosi credo che sia meglio per i capelli ricci perché comunque sia tendendo a avvolgerli con questa crema fa anche in modo che siano un pochino più disciplinati tutti i due prodotti comunque sia intanto non contengono silicone importantissimo perché io è una cosa che guardo perché ho notato che è molto valido soprattutto per la pulizia dei capelli tutti i due prodotti non seccano la cute e i capelli sono morbidi si tranquillamente si pettinano bene e tutto il prodotto si risciacqua facilmente quindi ottimo prodotto ottimi marchi avete visto che ne ho provati vari e tanti quindi comunque sia una ho provato anche se ne campioni ho provato per tanto periodo questi prodotti e ve li consiglio se li trovate in negozio io almeno una prova una volta li dovrei provare e vi consiglio di provarli almeno una volta perché è un marchio che dicono sì ok numero uno e può anche perché ho visto che non costano tanto quindi sicuramente da provare almeno una volta poi potete dirmi se vi sono piaciuti oppure no comunque sia credo che che avrete dei risultati sicuramente fatemi sapere se siete provati quale preferite tra le varie come si dice versioni e come siete trovati spero sia stata utile al prossimo video ciao